La Brexit si avvicina e in Olanda si sta organizzando una festa di addio, o forse di arrivederci, sulla spiaggia per salutare gli inglesi che il 31 ottobre dovrebbero lasciare l'Unione Europea. Mike Hansi è una cittadina balneare olandese di circa 2400 abitanti. Due settimane fa un cittadino locale ha avuto un'idea stravagante per organizzare una festa in onore della Brexit il 31 ottobre. Per sfargere la voce, il regista 55enne Ron Tukuk ha organizzato un evento su Facebook. La sua idea è diventata virale e si aspetta che arrivino 10.000 persone. Ciò che sorprende è che le persone stanno prenotando voli dagli Stati Uniti e dalla Cina. Ho appena sentito anche di qualcuno dalla Spagna. Ma si tratterà più di una celebrazione o di una commiserazione? Non è un evento né triste né allegro. Vediamo il Regno Unito come un vecchio amico che sta iniziando un'avventura che non oseremmo intraprendere mai. Riteniamo che sia un po' ridicola. Ma cosa ne pensano gli abitanti del luogo? È divertente. Sebbene sia una festa da Dio, penso sia divertente. No, non è una festa. È molto triste non avere più il Regno Unito all'interno dell'Unione Europea. È una sciocchezza. È la più grande farsa di cui abbia mai sentito parlare. Vogliono riunire qui 10.000 persone il 31 ottobre per salutare gli inglesi. Ma il sindaco non è d'accordo. Questo evento farà conoscere la zona. A Wai Kansi ci piace far festa ma deve essere responsabile. Questo è il mio lavoro. L'idea di scambiarci saluti con gli inglesi è ottima e poi ci saranno diversi tipi di musica da differenti paesi europei. È un'idea straordinaria e la supportiamo. E ora le altre notizie da Bruxelles. Il sottosegretario di Stato americano Mike Pompeo è atteso per colloqui a Bruxelles. La Svezia annuncia un piano di investimenti per la difesa. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è atteso per colloqui a Bruxelles. Incontrerà il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Gli argomenti includeranno probabilmente la situazione in Afghanistan, dove il rappresentante americano ha negoziato un progetto di accordo di pace con i talebani. La Svezia ha reso pubblici i piani per introdurre una nuova tassa bancaria per finanziare i futuri investimenti per la difesa. Il paese neutrale rinnova i suoi sforzi per contrastare la concentrazione militare della Russia nella regione del Mar Baltico. Aumenterà le spese per la difesa dall'1% all'1,5% entro il 2025.